La strana camminata notata da tempo nel presidente russo, Vladimir Putin, con un braccio sinistro che oscilla e quello destro quasi immobile, non è il prodotto di una malattia neurologica, ma qualcosa che gli esperti chiamano la sindrome del pistolero. Essa deriverebbe dalla sua abitudine a portare armi quando era agente del KGB, l'agenzia di sicurezza dell'Unione Sovietica. A sostenerlo in un saggio oggi è la prestigiosa rivista scientifica BMJ dopo un'attenta analisi dei filmati di Putin giunge alla conclusione che il leader del Cremlino non soffre di qualche paresi o di Parkinson. La squadra di ricercatori che ha lavorato alla postura di Putin ha trovato una spiegazione nelle istruzioni del manuale operativo degli agenti del KGB, nel quale si trova la seguente indicazione, quando ci si muove, è assolutamente necessario tener all'arma sul torace o nella mano destra. Lo spostamento in avanti va dunque fatto con uno dei due fianchi, possibilmente il sinistro, girato in direzione della camminata. Da cui si evince che ridurre l'oscillazione del braccio destro consente di estrarre la pistola rapidamente. Una caratteristica, si fa notare nell'articolo di BMJ, notata anche in altre persone con addestramento nei servizi segreti sovietici di cui sono stati esaminati i filmati.